Il mio amico, il mio amico Yari Ghidone, Yari Ghidone, allora questo ragazzo, quanti anni ha? Ha rinunciato al lavoro, cioè ha rinunciato al lavoro lui lavorava e cos'è che facevi il fumettologo? Facevi il fumettologo cosa ha fatto? Ha lasciato il lavoro, perché è una storia meravigliosa sembra il libro cuore di Kim, com'è che si chiama? Sandokan ti ricordi Sandokan? Sandokan, cioè è veramente una roba fantastica lui cosa fa? Lascia il lavoro, perché faccio, mi sforzo di fare tipo Manzoni e Promessi Sposi, ok? O Pascoli, così si va nella città dolente quello che è Dante, non lo so chi cacchio sia, comunque vabbè, scusa, sono ignorante sono ignorante, scusa, 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 sono ignorante, scusa il piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio, l'esercito passava per raggiungerla la frontiera per far contro un emico, una barri... Ora, intanto ricordiamo i nostri soldati andate a Redi Puglia a ricordare i soldati morti sul fronte, no? Perché la prima guerra mondiale se la dimenticano tutti, ok? La resistenza, quella è la vera resistenza e non lo dico per colore politico, quelle è la vera resistenza tiravano le bombe con le navi sulla costa italiana, le bombe con le navi i nostri amici austriaci, va bene lo stesso, facciamo finta di niente mi sono letto la storia da... faceva accapponare la pelle, altro che Garibaldi, sì, Garibaldi, giustamente allora, andiamo avanti, e poi, sì, diamogli anche lo statuto speciale diamogli anche un coso, tre bidet per ogni bagno, mi raccomando, eh avanti così, questa bella Italia, allora andiamo avanti, comunque questi sono i nostri politici, comunque andiamo avanti, scusa questo sfogo allora, Iarichidone, Iarichidone ci dà la lezione dell'ecologia cioè lui va con una carossa a cavallo in mezzo ai monti, ok? a vedere la natura, si riconcilia con la natura, col focarello dice quanto è bello la vita nella natura, quanto è bella la vita tra gli animali quanto è bella la vita con le persone com'è che hai detto? Bisogna riscoprire la vera essenza, la vera identità quindi non bisogna vivere di apparenze, ma bisogna vivere di, e questo, di semplicità poi però, la grande contraddizione, attenzione, perché non va con la carossa a cavallo va con una roba che manco l'esercito degli Stati Uniti, ce l'ha una roba che consuma, l'ha detto lui stesso, ha fatto un video quanto consuma, consuma come un, quei corazzati dell'esercito russo, ok? per fare della pubblicità, progresso, ok? quindi che cavolo vuol dire questo? cioè, capisci l'ipocrisia, cioè tu inquini più della mia panda più di mille pande messe assieme però ci dai a noi la lezione morale invece che lavarti la bocca perché quel gasolio lì quel gasolio lì contribuisce, hai capito? a fare una cosa che piace a te perché a questo punto mi viene da dire che ti piace grazie grazie grazie